Amici di Viavai TV Online, questo pomeriggio siamo qui con Don Giampaolo e voi sentite alle mie spalle il soundcheck di Tommy e Manuel in occasione di due concerti che saranno tenuti qua ad Asiago presso il centro Millepini e per cosa saranno fatti questi due concerti? Don Giampaolo intanto grazie di essere qui con noi e raccontaci un po' qual è il tuo lavoro in Ecuador Io sono missionario della diocese di Padua in Ecuador, sono quattro anni che lavoro nella città di Chito nella periferia in una piccola parrocchia di 45.000 abitanti, questo è l'abito da festa del contadino campesino di Chito loro quando è festa si vestono così, con questi abiti ballano, vanno a messa e vivono il loro momento di festa mentre durante il tempo del lavoro semplicemente si mettono un poncio un po' più umile Grazie Don Giampaolo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti